Ridare impulso all'economia della costa e creare 76 nuovi posti di lavoro sono gli obiettivi dei 18 protocolli di insediamento siglati nella sede della Presidenza della Regione Toscana a Firenze, dal Presidente della Regione Enrico Rossi e da 18 imprese delle aree di crisi di Massacarrara e Livorno, 15 di Massacarrara e 3 di Livorno, per un ammontare complessivo di oltre 5 milioni e 300 mila euro, presente anche l'assessore alle attività produttive Stefano Cioffo. Noi firmiamo dei contratti oggi, in sostanza, perché si tratta di protocolli di insediamento, sono investimenti che vengono realizzati con il supporto anche di finanziamenti regionali. Noi mettemmo 10 milioni sul Livorno per supportare gli investimenti nell'area di Livorno, che è un'area di crisi, e altri 10 milioni sulla provincia di Massacarrara. Oggi diamo l'ultimo tranche, si tratta di un contributo come Regione di circa 5 milioni e mezzo, che contribuirà a sbloccare investimenti privati per 21 milioni e oltre. Sul totale delle risorse regionali, 4 milioni e 600 mila euro, serviranno alle 15 aziende di Massacarrara a realizzare investimenti per oltre 18 milioni, con la creazione di 66 nuovi posti di lavoro, esaurendo la graduatoria ancora attiva approvata nel 2016. Alle tre aziende di Livorno andranno 726 mila euro, relativi all'accordo di programma siglato nel 2015, che permetteranno di fare investimenti per 2 milioni e 9, di creare altri 10 posti. Ma quello che stamani salutiamo con piacere è il rapporto di fiducia con le imprese. Qua stamani molte imprese hanno dimostrato che credono in un rapporto con le istituzioni, credono nella possibilità di trovare uno spazio di buona e nuova economia, mettendo a disposizione risorse proprie in maniera importante, alle quali la Regione affianca una quota parte. Rossi ha poi annunciato lo stanziamento di ulteriori risorse. Grazie a tutti.